D'Angelo Finucane in compagnia di Pranci e Segilos Che però non è con noi E non ci sente, è greco E stiamo avendo le classificate Vediamo un pochettino se lo stream va bene Io lo vedrò tipo dopo due ore sul Mi ha scritto Chi? Segilos? Mi ha scritto Mi ha fatto arrivare il New England 2 Ah Credo che sia stato lui però Vabbè io sono ancora un Ameulo Il vecchio Angelone riusciva ad arrivare Arriveremo prima o poi Mamma mia casa che bella partita Sperando che non classico per l'altra volta Ti ricordi Ma non credo Fa un freddo Fino quindi è impossibile che il pc si 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 surriscaldi Guarda 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 Dove seggi prendi il rock? Guarda Sigi Mannaggia Eh Chi è che è persa e persa Nooo Vabbè l'ha fatto apposta Vabbè 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 Io ho paura quando gioco a me in casa Perché l'altra volta stava uno Che non mi ricordo che ti aveva detto E tu l'hai ammazzato Ti ricordi? Ha decretato la sua Morto Vivo morto Tu verrai con me Non riesco a vedere Eh No non riesco a vedere il mio video Boh Ma su telegram hai scritto No solo con Mattia Cioè non è che faccio spam sul canale del master I will take all'altro Oh Vabbè l'hai scritto Ops Diciamo Come vorrei dire Come cavolo si dice Vedete la stanza Non mi viene il termine Eh Vivo esplicito O insplicito Io ho implicito Piazza e mira Piazza e mira trappola No sto scrivendo il nome del canale Ancine il drone è più male Il drone nemico ha trovato il contenitore di bioristio Ne metto Ancine il drone è più male Ancine il drone è più male C'è C'è Ci sono un refm Mancano 5 secondi Ho una sorpresa per i nostri amici con il rabbino Procedere il contenitore di bioristio a tutti i costi Barichiamo Un giorno mi dovresti dire una cosa Dimmi dimmi Tu mica quando sta un refm Vai addosso Con la Con il drone Vai pranci E io mi sto No io sto prendendo le corazze Rianimazione Too late Grande seggi l'ho S'ha apprezzato oscuro per il bug Grazie Di tutto ci stanno lanciando qua E levati dal ca C'è uno alla finestra Io vorrei che questo guardasse verso il muro Perché? Così spara attraverso il muro Mamma mia Grande seggi l'ho successo Se buttarlo di sotto E' una tiri Vedete come che pro giochiamo Non mi ricordo nemmeno come lo conosci Vabbè Angelone Scriviamo Qua dovrò entrare Hanno rinunciato ad appropriarsi del contenitore Ricarica Bianchi C4 E' cool Cosa? Cosa? L'ultimo nemico rimasto Lo sledge Non rivediamo Ah Ah mi ha sparato sul ginocchio No seggi l'ho Stanno in bagno Ma dove che mi ne fa neanche a questo? E' stato dietro E' muori Muori male Nemici eliminati E' saltato in aria A poterlo da un'angicone Scusate Io voglio lui Dove ci mettiamo? Cantiere d'Ile Sì dai Qua c'è un cantiere d'Ile Verissimo Me ne attacco Ah beh sì Cosa c'è l'ho C'è un altro cantiere d'Ile Sì All'esterno Ma io ho messo strada laterale Ah strada laterale? Sì La strada telecamera Gratuita Dimmi se inizia il round Inizia il round? No ancora non è iniziato Infatti non mi sono fidata Partitella spensierata ancora Intanto mi dice live stream Trovate la posizione del contenitore di biorischio Io non mi vedo Cerchiamo Secondo me garage Eh cavolo Era garage Sì Ma B2 è B1 B2 Eh fra poco Inserimento tra dieci secondi Ah sì Certo l'avevo detto Cinque secondi all'inserimento Oh a me non è partita ancora sta cosa Raggiungete il contenitore di biorischio e difendetelo Vabbè dal tablet è sempre così Sempre un dramma Ah quindi il master quando è monello l'ha detto prima a te non ha detto No ha detto Ha detto Deve metterti B2 il finucane Io se ti volevo far mettere il nostro clan più aggione Più 4 Eh Bisogna fare le nostre torre Un bel buco gigante in arrivo Vabbè metto entrambi i clan Cioè leva o metto Cioè Dipende dalle occasioni Mach Ashes C'è un rocchettato Fuori 1 Facciamo fischiare qualche orecchio Occhio è innescata fuori due ma sono azze e non lo so attività nemica tornate a occuparvi del contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia prendete il contenitore di biorischio ultimo attaccante rimasto e infatti olè vittoria per gli attaccanti ah si quello che mentre scavalcava mattia se ci sei dacci un segno scrivi angelo e lezzo no no è mio 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 no no nessuno rock ma non serve a niente rock no le armature ti danno tanta vita quindi ho provato ho provato mattia mattia non c'è mattia il drone nemico ha trovato il contenitore di biori a eccolo seggi 8 secondi il drone nemico ha trovato il più rischio il drone nemico ha trovato il più rischio ma io non ho capito ma io non ho capito dov'è il bior rischio ma io non mi sa che ti voglio trollare ti vuoto su no dai ok no scusa dai tu stai io l'ho venuto attivo il sensore ricognizione ce n'è uno sopra vai seggi a granata bong no ho sparato attraverso il mura l'ho ammazzato ha fatto bene è solo difensore rimasto no veramente sto giù e ti spaventa no la stavo ammazzando ok vai segilos great segilos ma è un pro chiamato perso mio 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 ho ops Dovete trovare il contenitore di biorischio. Un po' che c'è fatto un altro peccato, un po' che ho visto per me, una certa Chiara sul gruppo di terra, stavo per dire il nome di uno, e in teoria non lo dovrei dire, giusto. Eh, penso che no, Lady Hug comunque, se non la vuoi chiamare Chiara la chiami Lady Hug. Sembrano barricati mediamente bene i tipi. Io ho paura delle tue idee, Franci. Le tue idee mi spaventano. Aspetta un attimo, sono indeciso se questo qua è russo o... Qua dentro. Attivo l'MLG in modo. Basta che rimaniamo vivi. Aspetta fai passare, fai uscire la testolina a me. Ok. Chi è che svolga? Oh! Fuori uno. Mamma mia. MLG mod con pier. Via telecamera. Dove c'è una sulle spalle. Eh lo so. Facciamo una collaborazione. Sì. Sembra una cosa di YouTube, allora io guardo la porta e tu guardi le scale. Ok. Mentre avanziamo. Aspetta, io giro da questa parte però. Passiamo fischiare qualche orecchio. Da qua nessuno, da qua nemmeno. Capcom. Contenitore di più rischio trovato, ora raggiungetelo. Andiamo qua. Via, via, via. Carica piazzata. C'è uno là al buchillo. C'ho il culo davanti di questo. Asseggo. Ultimo attaccante rimasto in vita. Vai. Preparo la carica. Attività nemica, neutralizzate la minacca. E vai. Difensori neutralizzati, vittoria per gli antecanti. 3-4-0. Mamma mia. Io sono a 4 però minchia sono là sotto. E io sono a 4. Pochi punti. Vittoria perfetta. Ciao dita, ciao dita. C'è dita di polvere? Sì. Adesso, questo qua sta a sfumare. Eh, dovrei fare libera perché tra poco me ne devi andare, quindi salvo. No, no, l'ultimo giro, l'ultimo giro. Rame 2. Eh no, non posso fare classificata, ti vuoi una decina di minuti. Rame 3. Dobbiamo uscire quindi. Facciamo libera. Dai. Torno al menu. Rame 3. 1 e 2. Pranci, c'hai invitati. Oh, ho sbagliato tasto. Via, però. Non voglio dire più tardi. Ho sbagliato. Accetta. Mi sai che ho bloccato la live? Ho fatto sta gran cazzato. Aspetta, vado a vedere. Sì, no, l'ho bloccato. Riavvia. Sì, quindi ha riavviato e se l'ha messo su un'altra parte. Scrivi, parte 1 e parte 2. No, la live va ancora, Angelo. Ah, ok. Ti arrabbia con quelle zillore. Allora, big tree. Cioè, grande albero. Big tree, ok. Mattia, come ti sta sembrando? La performance. Allora. Stuf back there. Qua, in questa mappa abbiamo stravenuto. Ah, io sono salito rame e buone, mamma mia. Tu sei rame e re. Eh, sì. Ora arriviamo di nuovo in pranzo dal pranzo. Eh, no, me l'hanno preso, me l'hanno preso. Vabbè, vada di termite. Ce l'ha preso il grande albero. The big tree, the big bambù. The big tree, the big bambù. Ma siamo sicuri che la live sta andando. Trovate il contenitore di biorischio. Il biorischio. Il biorischio. Minchia, oggi è la giornata del presidio. Ora ho rinforzato, voglio sentire urlare. Visti. Un chiesalto inutile. Sì. No. Sì. Raggiungete il contenitore di biorischio. Vai, 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 vai. Vai, go, go, go. Uso un drone. Quento dei nemici. Piano terra. Porta l'esplosione. Contatto nemico. Eh. Da qua a sinistra. Vuole sentire sopra, comunque. Ah, via. Sta là, in fondo, in fondo. Eh, lo so. Aspre che... Allora, è morto, è morto. E sta muerto. Allora, tu spacchiate le camere e io ti guardo. Ma chi? Io sono all'interno, però. Vili. Che vili? Perché siete tutti all'esterno. Io sono all'interno. Sono stato individuato. Da chi? Allora, ci ha detto che siamo hacker e qui all'entato. Ah, bene. Sento correre. No, io. Sicuro? Sì, sono di rinforzato. Sono non è pronto. No, ma che spacchi a fare? Vieni a rinforzare. Meno delle mancanellate. Oddio. Questo qua ti ha salvato da un... Ok. Piazzo la carica. Go! Mamma mia. Cosa sta succedendo? Cosa non sta succedendo? Sta per esplode. Occhio, Pranchi. Non so dov'è. Eh, dietro quel... L'ultimo attaccante è rimasto in vita. Ce la vedi a sinistra. È mo'. Vai, vai, butta lì, butta. C'è tanto a ditta. Sinistra! Bellissimo. Grande seggilos. C'è Zeus. Certo, Zeus. Certo, Zeus. Adesso ti invitiamo. Eh, dove devo andare proprio questo? Eh, vabbè. Eh, appena tu sei libero... Lo tiro dentro. Il problema è che torno alle disce. Eh, vabbè. Intanto faccio la parte con Zeus. Barricate la stanza. Dobbiamo proteggere il controllo del mondo. La stanza! Allora, il master... Pezza della forza, no? Sì. Mentre Zeus è pezza della forza del pezzo. No... Non ti seguo, però... Non fa niente. So vecchio. Il master è pezza della forza, sta nello c'è di... Ahah. Mentre... Il... Zeus... Muro rafforzato! Mancano dieci secondi. Pensa che sta nel... Nel cipi di merlo. Telecamera in posizione. Cinque secondi. Le porte! Chiudete le porte! Il nemico non ha trovato il contenitore. Cercheranno di localizzarlo durante l'altra. È stato il mio lavoro, non c'è mero. Stati alla larga. Sono stato individuato. Ciao, Rune. La porta! Le porte! Chiudetele! Che fa freddo. No, Rune è mai individuato. Ci stavo per sparare. Facciamo il ballone dello squadro. No. Hello. It's me. Dai, fai il ballone dello squadro. No, si fa cuè. Cuè, 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 cuè. Occhio che ci stanno sparando. Voglio un wall up. Ci saranno le parlanti di ci vuole. Da qua. Credo che ci sia qualcuno qua. Spacca, spacca. Hai il fucilapomba? Via, 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 via. Mi ha ammazzato un... No! Cosa? Stavo dietro al muro. No, no. No, io voglio prendere. Intanto... Ma... Ma non mi ha ammazzato? Tiro al muro! Ok. No! Dai, ma sono cercata questo. Sai perché succede che ti ammazzano anche se stai dietro al muro rimforzato o indistruttibile? Perché quelli che lo dilacano. Vedi il primo che mi ha ammazzato? Guarda quanto pinga. Sì. E se loro laggano, ti vedranno prima. Cioè... Tu dici, loro laggano, quindi loro ci rimettono. No, c'è tu che ci rimettono. E infatti, perché li vedo dopo? Un solo difensore rimasto. Quattro in posizione. Chia, comunque una tragedia di assist avrò fatto con sta... Infatti. Andiamo a cercare... Le telecamere. A poca! Nella terza telecamera. Uh-huh. Uno, due, tre... Niente. Quello che sto portando... Eh no, non c'è là, però sta là. Ah. Eccolo. 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 Guarda, panico! Ha avuto il panico! Ce l'hanno visto! È andato in panico, comunque. Diciamo che è vinta questa partita. Guarda, altro panico, guarda. Guarda come si entra in panico, guarda. Ah, niente. Devo correre, devo vincere, devo fare un timpon. Devo correre, devo vincere, devo fare un timpon. Mio, mio, mio! Anche a Seggiros ci sta pensando. Anche io. Madonna, mi prendo a giusto. Sì. Servirebbe termina. Bravo, Seggiros. Lui è livello 117. Sti cazzi! Credo che lui vorrebbe battere un giro mental master. Non lo so, sinceramente. Sono due stili di gioco diversi. Il master batta! Trovate il contenitore di biorischio. Dove saranno? Dove saranno? Tu hai seggiros è l'unico che se tu lo lanci un drone, lui prende le telecamere e guarda il tuo drone. Niente. Sai perché fa bene? Ma cosa deve gioi? Perché? Perché se io lo lanci un drone e tu guardi il mio, lui, senza che io mi metto a spottare, quindi fa capire ai nemici che qualcuno gli sta guardando, lui sa dove sta, ho capito? Ah, certo. No, guarda qui dove sta. Dove sta? Guarda il sinistra. Guarda il sinistra. 5 secondi all'inserimento. Ah, bellissimo! Dove sono? Non mi dite che sto di nuovo sotto. No, mi pare che sono qua. Dove sta sempre. Ah, sì, sì, visto, visto. Vai, vai. Sì. Contenitore di biorischio localizzato. Trovato. Via. Buoh. Vai, pranci. Non c'è. Nothing. Io spero solo che non ci sia Valkyrie col C4. Purtroppo c'è. Eh, infatti. Maledetta! Non so come ha fatto a farmi così male. No, 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 no. Oh mia, oh mia. Che mia. Che mia. Scusa, seggi. In realtà è una mia la qui. Cambio caricatore. Uno di loro fosse più intelligente e avrebbe già fatto il C4. Eh, infatti. Qua c'è nessuno, qua per terra, no? Vabbè, apri tu, apri tu, non li distraiamo. Ok. In realtà dovrebbe essere contrario. Carica speciale. Mi ha fatto male. Carica graffolo. Do sta? Ah, maledetta. Qua, qua dietro. Bellissimo. La squadra d'attacco ha eliminato i difensori. Bellissimo. Dice, dice a Zeus che lo streamano IVA. Mi confermi? Guarda di. Sono morto per i miei amici. Aspetta, ora vado a vedere. Ora come mi arriva a andare. Ti conosci dai babbari metallari? Torno al menu? Tu stai andando via, giusto? Sì. Sì. Sì, ora vado a vedere un attimo la live. Ti dico che aggiorno in diretta. Dai, intanto invito a giocatori. Invito a giocatori. Invitato. Chi sei Zeus? Ce l'hai? No, vabbè, l'ho fatto uscire, poveretto. Aspetta. Invitami. I miei inviti, invito a giocatori, pranci. Ok. Invitato anche pranci. Aspetta, mi pare che andare. Cioè, mi pare che sei diventato. You have to go. Aspetta, devi andare. Tu dovresti poter spostare la genna nella tua stanza. Ok, devo andare. No, vabbè, va bene così. No, per Zeros. Eh, vabbè, va bene così. Come va bene così? Va bene così. La live si vede. Ora ti dico. Allora Angelo Dal vivo ora Due spettatori Sì va bene Ok Yam Ah no ha detto Angelone Io però sai che Steam Non la stream Ah ok Vabbè è libera Non fa niente Zeus Ci arrangiamo così Pranci quindi è stato un piacere Mi son divertito Ho sparato su Segilos Uff Perché Zeus Quando tu Alex Tu Segilos No non l'ho ucciso L'ho sparato nel culo una volta Mi si è messo Su una linea di tiro E però Lui ha detto Sono morto per i miei combatti Eh vabbè Che gli ho tolto tipo 10 di energia Non so del genere L'importante Attiva i microfoni del gioco In chi è? L'attivi Eh Se Zeus Si spicciava Venire in gioco E in T-S Magari lo spostavo Infatti Mi ha deciso di no Eh io Sperate tanto 10 secondi Poi me ne va Dai Eh Opzioni Audio Audio Sotto tipo Volume della chat 100% Aperto Aperto Applica Incolla Vediamo se va Niente Zeus Non si spiccia Zeus Zeus Te sento Sì Weee Peppere Peppere Come va Bene bene Però C'è Ok Dai Andiamo a spaccare tutti Viene Va bene Zeus Sono la rientrissima Ciao Pranci Mi sono divertito Ciao Pranci Arresto Sistema Disconnected Disconnected Ho capito Che La mia voce Nella live Sente così Barricate la stanza Dobbiamo proteggere il contenitore Di bioricchio Tipo urlare così alto Ah Ok Vabbè Non ti preoccupare Tanto siamo qua A cazzeggiare Non è che stiamo muovendo niente di che Ma Perché non barricano Barricate Il nemico ha individuato il contenitore di biorischio Ed è uno Ed è due Le porte E Erano là Eh Vaffambagno Mattia Stanno arrivando i file Al nastro Sessore attivato Nuovo caricatore Hanno rinunciato ad appropriarsi del contenitore Impedite al nemico di prendere il contenitore di biorischio Un operatore alleato rimasto Eh Dicevi della vittoria Che doveva un pit Proteggete il contenitore di biorischio Eh Mattia Credo che sia quello che vuole fare il tuo moderatore Intervenite all'istante Difensori eliminati Missione fallita Missione fallita Dai che ci rifacciamo Allora Se tu mi prendi Beh L'export Io ti prendo Termo Ok Così Entriamo comunque Ma io non so usare Termo Siamo di questi Allora siamo tutti morti Sì Ti sento Bassino ma ti sento Dai I file Scritto File Dovete trovare il contenitore di biorischio I fallimenti Mattia Dai 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 che ce la possiamo fare Zeus Saranno giù Dov'è Eh infatti È in cucina Che è brutto posto Secondi all'inserimento Raggiungete la posizione del contenitore di biorischio Andiamo Zeus Ti sento laggare Eh vabbè capita Zeus Non ci posso fare niente Voglio vederti laggare Arrivo Aspè Zeus Che tu sei importante La finestra La finestra C'è Valkyrie Certo Vabbè cione Fail 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 Mattia Fail Solo l'angelone può fare così Sì infatti Ricanzo Ma tu dove sei Zeus Ah sei un po' deceduto anche tu Bene Reculta morta in 3 2 1 Ah no guarda Sta resistendo 3 ho detto 3 e mezzo 1 1 1 1 muori Ok 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 Un operatore d'attacco L'abbè abbiamo perso Ok Squadra d'attacco Olle E divertimento Via Via Dai Cerciamo sto giro Che ore sono Cosa prendo Eh Boh Fai tu A tua libera scelta Ecco forse questo qua Sì ti sento Zeus Difendete la stanza Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio Lascio qui un trauma pack Piazzone è pronto Sì Il drone nemico ha indossiato il contenitore di biorischio Mancano 10 secondi Dai ti al cazzo Siamo a 5 secondi Pronti ad accogliermi Il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio Sensore cardiaco in uso Piazzo il tappeto Ok Questo è morto Adesso siamo morti Qua siamo mediamente morti Versaglio individuo Attivazione Jammer Attivo il sensore Uso sensore cardiaco Attivo il sensore Zeus Siamo barricati No male di più Olè 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 Che vuoi Attento Zeus Via da qui Da tutti i lati Eh vabbè Ciao 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 Ho rinunciato ad appropriarsi del contenitore Scazione Il nemico sta difendendo il contenitore di biorischio Oh il trappolone Un operatore alleato rimasto Vai Zeus Spacca tutti Abbiamo perso Bene Lo rischio in mano nemica Missione di difesa fallita Sconfitta totale Quante gioie Zeus Zeus Ci arriviamo a farne l'ultima Ci stai Zeus 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 Minchia Se n'è andato Ci sei o non ci sei Zeus Zeus Ah qua Zeus Ah Florian Rouse Raffaele Rouse A posto Siamo Siamo una botta di ferro Zeus Presidio Presidio PULSE Ah ok Hey guys how are you doing? Hello 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 Rafael Hello 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 Do you like to swim? Yes yes Sonata Mutali Mutali I didn't understand I didn't understand Can you repeat please? Suka Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio Il biorischio Il biorischio No Vinceremo per questo No Guarda che sono bravi Zeus Nie Non hanno voglia di fare una partita Questi Sono venuto a rompere le balle e basta Ok Ancora 5 secondi Ciao Zeus Alla prossima Ciao Mattia Ciao a tutti gli altri Ciao Proteggete il contenitore di biorischio a tutti i costi